Sono 221 i nuovi casi di covid accertati nelle ultime ore in Abruzzo. Si tratta del dato più alto da oltre sei mesi e in particolare dal primo maggio scorso quando i nuovi casi erano stati 226. L'Abruzzo così supera gli 84.000 casi dall'inizio dell'emergenza, 84.101. I nuovi positivi hanno età compresa tra 5 e 100 anni e sono emersi dall'analisi di 4.248 tamponi molecolari e 8.739 test antigenici e risultato positivo l'1,7 per cento dei campioni. Non si registrano decessi. Gli attualmente positivi sono 2.511 più 158 rispetto a ieri, 81 pazienti più 4 sono ricoverati in ospedale in area medica e 6, meno 1 rispetto a ieri, sono in terapia intensiva mentre gli altri 2.424 più 155 sono in isolamento domiciliare. I guariti nelle ultime ore sono stati 61. I nuovi casi provengono 66 dalla provincia dell'Aquila, 34 da quella di Chieti, 41 da quella di Pescara e 65 da quella di Teramo. Per 14 sono in corso verifiche sulla provenienza. Alla luce degli ultimi dati sale a 74 in Abruzzo l'incidenza settimanale dei contagi per 100.000 abitanti. Il dato che una settimana fa era inferiore alla soglia dei 50 sale rapidamente, torna a valori registrati l'ultima volta a inizio maggio quando però i numeri erano in calo. In ogni caso i parametri restano da zona bianca. Il tasso di occupazione dei posti letto infatti scende al 3% per le terapie intensive ed è fermo al 6% per l'area non critica. I numeri più alti sono quelli del Teramano. L'incidenza settimanale dei contagi, che nel giro di una settimana è raddoppiata, sale oggi a 132. Segue la provincia dell'Aquila con 90, poi c'è Pescara a 44, chiude il Chietino con 34. Un focolaio di Covid peraltro si è rilevato nella casa di riposo Santa Lucia di Sulmona. 21 persone, tra cui 19 ospiti della struttura dei 30 presenti, sono risultate positive. Per quattro di loro si è reso necessario il trasferimento nell'area grigia dell'ospedale di Sulmona dopo la comparsa di febbre e di sintomi legati all'infezione. È in corso la diagnosi dei medici per decidere la loro destinazione. In nottato un altro ospite è stato trasferito nel reparto di malattie infettive dell'ospedale San Salvatore dell'Aquila, dove nei giorni scorsi erano stati ricoverati quattro assistiti nella struttura. Tra gli operatori hanno contratto l'infezione due infermieri sui dieci in servizio. Sul fronte ai vaccini novità sono state annunciate oggi dal ministro della salute Speranza nel corso del question time alla Camera. Dal primo dicembre saranno chiamati a dose di richiamo anche chi ha tra 40 e 60 anni, ha detto Speranza. La terza dose è assolutamente strategica per la campagna vaccinale. Il richiamo andrà effettuato a sei mesi dalla conclusione del ciclo vaccinale primario con due dosi e si utilizzerà un vaccino a mRNA.